ciao ciao amici devi iniziare a leggere ah devi fare una saluta no? questo è il secondo vlog questo è il secondo vlog e ha uscito me però tanto non lo può uscire ancora perché sta dormendo e nulla di rispondiamo alle domande che avete fatto sul primo vlog quindi tu inizi rispondiamo le domande non sentiamo più l'imbarazzo adesso se cosa devo aspettarti e nulla vai inizi tu vai perché inizi tu abbiamo detto ah allora Matteo si dice cioè chiede va benissimo così va bene prima vai prosegui mi copro solo quando rito vai vai Matteo allora da quanto e aggiungiamo noi perché l'ha fatto altre persone come vi voglio conoscere tu e Martina e da quanto siete fidanzati e successivamente sposati ah io rispondo perché? hai detto che te la legge e tu rispondi allora come vi conoscete tu e Martina? come ci siamo conosciuti? da quanto prima? da quanto? ci conoscevano quasi tre anni credo quasi tre anni siamo conosciuti siamo conosciuti siamo conosciuti che ma guarda non ti ricordi perché sei concentratamente tanto a avere la registrazione allora cioè ai tempi mi immagini c'era un ragazzo che dovevo fare ingelosire ma che schifo questa volta non la ricordavo ancora non ci conoscevamo te c'era un ragazzo che dovevo fare ingelosire allora io tipo lui siccome aggiungiamo un sacco di ragazze su facebook e cose così allora ho detto basta ora inizio anch'io ad aggiungere ragazzi qui si accadono su facebook allora tipo stavo guardando stavo scorrendo tutte le amicizie tipo consigliate e c'era allora un ragazzo che aveva tipo l'immagine come immagine di profilo aveva un disegno che mi ricordava tantissimo il mio personaggio preferito del mio animo preferito cioè di Grimman e Alden ero io un ragazzo ed era lui un ragazzo e tra l'altro l'avevo saltata inizialmente non lo stavo considerando per niente guarda se hai un po' dei dettagli però che sei andata è solo che questo non trovate indietro ma lo spassi sto qua se mi dà fastidio no perché devi leggere le domande è un pochettino che a destra un po' più a destra e allora l'ho aggiunto e da lì lui mi ha contattato dicendo ciao sai chi sono? e io dico no non so chi sei no passiamo dunque no senti zitto senti zitto ha iniziato a dire ha iniziato a dire no aspetta no no ha iniziato a dire mi conosci e ha detto no per l'entra non ti conosco e poi fa no no ha detto posso elincarti posso fare pubblicità e io che intendi per pubblicità? ha la mia pagina facebook ok e mi ha inviato la pagina facebook aspetta no e poi insomma sono da iamond ah sì sì mi è andata bene così perché mi aggiungeva sempre gente in quel periodo perché giocavo a lol e facevo streaming ai tempi e quindi mi aggiungeva gente quindi l'ho chiesto se mi era aggiunto per quel motivo non era tipo la presunzione di dire ah mi è aggiunto perché mi conosci era tipo un mi è aggiunto perché era per questo ah ma tu mi conosci vabbè passiamo alla seconda domanda ah no andiamo avanti no 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 e quindi poi tipo te li hai iniziato a parlare ma la cosa più comica qual è la cosa più comica è che io l'ho scambiato per un ragazzino di 15 anni di conseguenza tipo ci parlavo tipo pensato ah aspetta un attimo ti interrompo un secondo a proposito di 15 anni già ero molto più barba solo che l'ho fatta poco fa perché partiamo quindi ripro anche perché si è rotto il raso elettrico vai continuo ah sposati dai passiamo alla seconda parte sposati eh quindi stavo dicendo il fatto che appunto io lo posso cambiare per il mio amichetto 15enne con cui parlare perché facevo la tendenza e poi invece andiamo a setta piano vai rispondi a siamo sposati no non siamo sposati non siamo ancora sposati la serie si chiama bustandomi a moglie ma è solo un titolo carino no quindi non siamo ancora sposati ci sposeremo presto forse giusto? mai mai a me mai tanto poi seconda domanda Sergio perché ti chiami fragola? rispondi io perché tu non lo sai perché non lo sai mi chiamo fragola un po' a caso perché prima gioco a world of warcraft e mi chiamo banana e poi ho fatto un secondo personaggio ho chiamato fragola ed allora è rimasto fragola quindi in realtà il nome è molto casuale e non ha senso poi ti leggo la terza domanda e rispondi Tancredi chiede apriremo mai una pagina instagram ma si sente questa è la domanda? si si sente mi chiamate la maietta suona un lato ops sono sbagliata scena apriremo mai una pagina instagram e Marti ha già progetti per il suo futuro? vai io non aprirò mai instagram perché non mi faccia poco non ho mai avuto instagram perché pensa che sia inutile però poi di fatto so che lì si connette a instagram e vede cose scongiate esatto progetti per il mio futuro? si ho progetti per il mio futuro vabbè disegnare avevano problemi infatti trovate in descrizione la pagina di Martina andate lì mettete like grabba like maglietta di riper maglietta di riper maglietta di riper andiamo andiamo ti ho regalato io andiamo Tommaso ma non mi hai fatto rispondere manco bene alle mie ambizioni cioè si diventare una delle più brave disegnatrici al mondo lavorare per la Riot di Blizzard è ambiziosa la ragazza tra l'anno sarà da 10 anni sarà il quattro a fare la casalina per lì ti manterrò io con lo streaming comunque Mario no no si è messi male Mario per te i soldi fanno la felicità? per te? vabbè in parte si dà e in parte si sto scherzando no dai però fanno comodo ovviamente poi Tommaso se dovessi farti rappresentare da Marti in un disegno quale personaggio cosa sceglieresti? cosa ci potrei scegliere? secondo me un bradipo no non sono verticalmente lento sono calmo vabbè bradipo vabbè bradipo va bene mi ha sposto grazie io dovevo così non mi vedo però va bene mi ha sposto poi Lurt chiede che percorsi studio hai fatto e poi cos'altro chiede non ricordo comunque ho fatto le scuole elementari e scuole medie ho fatto liceo scientifico e ho iniziato l'informatica poi darknerd chiede trovi ancora stimoli per continuare a giocare a lore pur non potendo più giocare gli ali competitivi sì meno di prima però sì perché comunque voglio tornare a quel livello quindi il mio stimolo è tornare a quel livello devo dire che dopo che sono stata challenger una propria che vuole tornare agli LCS ce la farai l'anno prossimo in season 8 poi Pier no questa domanda è in beta Pietro Paolo mi savo Pierpaolo quando avete saputo il bambino quando avete avuto i vostri genitori avete avuto problemi come l'hanno presa vai Martirino perché prima io un momento aspettiamo metti la musica attesa di poi la musica te lascia il sole non me non so che si sente dove stai facendo però si vede quello che faccio eccoci tornati scusate l'interruzione c'è stato un piccolo problema tecnico eh? ah è stato sì è un piccolo problema tecnico vai ehm i genitori vai rispondi alla domanda di Pietro Paolo a me in realtà sono create varie coincidenze io allora prima l'ho detta mia cognata che la conosco da quando o tre anni quindi tipo sa tutto poi tramite lei l'ho detta mio fratello poi siamo andati io lei e mio fratello a casa di mia madre e l'abbiamo detto non mi ha parlato per una settimana quindi è stata un po' tragica però secondo me è peggio i miei genitori perché i miei genitori sono il suo padre in particolare mi vado in particolare ha iniziato a chiamare per farmi abortire e io tipo li messa lì che ascoltavo io veramente ho deciso di vabbè avete deciso senza dirci niente non avete consultato vabbè basta questi sono i riassunti in breve di come è andato passiamo alla domanda cosa sia Luca perché era un periodo particolare diciamo così no veramente era un periodo particolare Luca dato che è inverno e ci sono zero gradi curi perché nei disegni siete a mezza manica perché qua dentro c'è troppo io sono abituato a stare infatti mi sento in casa a calda mi sento calda e girare sempre a mezza manica odio molto calda vestirmi in casa per quanto odi il freddo no cioè no amo il freddo per quanto amico il freddo in casa devi far caldo sempre e poi Elia come desideresti chiamare tua figlia Aria ah inizio noi le violette poi infatti quando pensavo che il nostro figlio Dante fosse una femmina perché ci avevano obiettato dicendo che è una femminuccia lenzio si doveva chiamarla infatti aveva chiamato anche un account più di Aria esatto e niente poi dovrebbe essere più di Aria Panda chiede chi è Panda perché sei sparito da Twitch Facebook che avevi fatto sentire in quel periodo perché fondamentalmente mi stavo concentrando a fare cose serie da padre responsabile ho detto fanculo c'è lo stream e youtuber e non trovo il tempo Max vivete da soli che lavoro fai o fate come ci sente arrivare a livello alto come master challenger allora come si sente arrivare a livello a livello alto risponde io ci sente potenti esatto Martina esperta del settore master challenger in quante season su 7 6 6 6 no comunque è una bella sensazione perché dici wow sono forte però no la faccio Martina mi vergogna scusa noi facciamo siamo particolarmente stupidi in casa però davanti a te le marano ancora poi viviamo da soli sì da un anno insieme prima no e che lavoro fai io vorrei fare lo streamer Martina vuole fare l'illustratrice lo stava facendo l'illustratrice non c'entra niente l'illustratrice un po' vabbè concept art character design va benissimo l'ultima domanda scusate comunque il blog secondo me è un punto completto in realtà non è corto come crediamo l'ultima domanda fatta da Vincenzo quale che hai per affrontare la vita i suoi imprevisti una domanda profonda Martina tu che sei una depressa cronica rispondi a me sono la persona meno indicata per rispondere a una domanda del genere perché credo di essere ah oggi ho scoperto il primo non sono bipolare vabbè certi soli c'è la gente per sembrare più wow sono bipolare si si spazza la maglietta vabbè comunque ma vabbè in realtà io per affrontare le cose sembro tipo scattiata stupida deficiente ma in realtà mi deprimo 24 ore su 24 dalla mattina mi sveglio e sono euforica tipo bellissimo è tutto bello dopo due secondi no pensate che è difficile anche per una inizio a andare tutto male per essere difficile per me mi assicuro tutto orribile sono estremamente lunatica non so affrontare e prendere cose bene per me qualsiasi cosa è una tragedia tra l'altro mi complesso sempre su varie cose che possono venire malattie mortali in cui tu puoi morire tutti possono morire si tipo ma lì adesso cerca su google e pensa di far morendo tipo fondamentalmente quello che succede ogni volta ma invece io ho compositività per me è tutto semplice tutto si risolve nel migliore dei modi sempre giusto? infatti è snervante di quanto per lui sia tutto semplice vero ma è così è tutto semplice bisogna solo crederci ed è questo quello che direi a Dante da grande caso che me l'avevi anche chiesto va bene il vlog è finito allora il prossimo vlog sarà metà webcam quindi questa parte qua così tipo sarà coperta perché ci saranno i disegni di Martina ma questa volta andiamo di fretta perché domani partiamo ed è tardi quindi stiamo registrando di sera tanto dorme vi salutiamo vi ringraziamo di aver seguito c'è la pagina Martina in descrizione subscribe commentate per il terzo vlog commentate con le domande del terzo vlog però non riguardante League of Legends nello specifico tipo che champion giochi perché lo potete fare in streaming tutti i giorni quando stream però fino al set sono pure quindi fino al set non c'erano stream il set riprendono forse eeeh nulla saluta diciamo ciao Gnare vi saluta ciao Dante addormentato vi saluta guarda guardate Dante che è addormentato come un sacco di patate eeeh vi saluta facendo un bacino va bene bacino bacino ma ho il cappello bacino ciao amici ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti